Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina Covid perché ieri, primo maggio, festa dei lavoratori è stata anche la prima volta dopo due anni senza mascherine all'interno di bar e ristoranti. Le nuove regole in vigore dopo l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza nel servizio di Stefano Recanati. Dal primo maggio prendere un caffè o mangiare al ristorante sarà come prima della pandemia. Infatti con la nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza non ci sarà più bisogno di indossare la mascherina nemmeno per arrivare al tavolo o recarsi in bagno. Lo stesso per la spesa al supermercato, girare tra gli scaffali e andare in cassa senza mascherina si può. Un messaggio di fiducia nei confronti dei cittadini, lo ha definito all'indomani della firma il sottosegretario della salute Andrea Costa. Decade l'obbligo di indossare la mascherina anche sui luoghi di lavoro, a eccezione di chi opera nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le RSA. Gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti. Rimane necessaria per entrare negli ospedali e visitare i parenti negli orari di visita. Qui l'obbligo resta in vigore fino al 31 dicembre 2022. Mascherina obbligatoria fino al 15 giugno anche per chi utilizza il mezzo pubblico, dove non basta una protezione chirurgica o di stoffa, ma serve la FFP2, come anche sui mezzi a lunga percorrenza aerei, traghietti, treni, pullman e agli scafi. Via libera invece all'accesso senza protezione, funi vie e agli impianti di risalita. A scuola invece non c'è stato il libera tutti, qui le mascherine continueranno a essere utilizzate fino alla fine dell'anno scolastico, come già previsto dal decreto del marzo scorso. Capitolo Green Pass. Il certificato verde dovrà essere esposto fino al 31 maggio da chi entra nel territorio italiano, mentre non serve più alcuna certificazione per alloggiare in albergo, per andare in palestra, per frequentare luoghi come piscina, centri benessere, parrucchieri, centri estetici, musei e teatri. Nessuna novità anche per gli spettacoli al chiuso, fino al 15 giugno infatti i dispositivi di protezione individuale saranno obbligatori in sale teatrali, sale da concerto, sali cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo. Mentre per gli spettacoli all'aperto bisogna comunque avere la mascherina con sé e metterla in caso di assembramenti. Stesse regole che saranno attuate anche per gli eventi sportivi. Con la bella stagione che tarda ad arrivare il virus non ne vuole sapere di allentare la presa, così l'utilizzo della mascherina resta a discrezione sia durante lo shopping sia al ristorante che sui posti di lavoro, dove i datori possono fino al 15 giugno decidere in autonomia se trasformare la raccomandazione in obbligo. E vediamo allora i numeri odierni del bollettino Covid nella nostra regione perché sono 582 nuovi casi accertati nelle ultime ore. Del totale 536 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 17,54%. In aumento i ricoveri che passano dai 340 di ieri ai 349 di oggi. Due i decessi e il bilancio delle vittime sale così a 3.222. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 4 mesi e 94 anni, 337 pazienti più 8 sono ricoverati in ospedale in area medica e 12 più 1 sono in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 819, vediamo le variazioni provincia per provincia, 61 casi in più in provincia dell'Aquila rispetto a ieri, 190 casi in più rispetto a ieri in provincia di Chieti, 220 casi in più rispetto a ieri in provincia di Pescara e 89 casi in più rispetto a ieri in provincia di Teramo. 9 sono persone che risiedono fuori regione, mentre per 13 sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso, nuove norme anche per il cratere del 2019 o saremo costretti a fermare la ricostruzione? A dirlo è il presidente del Lance l'Aquila Frattale, il quale è intervenuto sul caro prezzi dei materiali che sta paralizzando il settore dell'edilizia. Giuseppe Lintino. Calmierare il rincaro dei materiali e adeguare i valori parametrici, queste lezioni che il governo dovrà intraprendere, altrimenti la ricostruzione dell'Aquila si fermerà. È netto il presidente della territoriale del Lance, l'associazione di costruttori edili, che parla di stop ai cantieri. L'orientamento del Lance è fermare i lavori perché un'impresa non può sospendere, ferma i lavori, significa che si paralizzeranno. È inutile che arrivano i finanziamenti. Arrivando i finanziamenti non si possono cantierizzare e si fermeranno i lavori. Giovedì scorso il commissario straordinario per il cratere del centro Italia, Legnini, ha firmato un'ordinanza, che dovrà essere approvata dalla Corte dei Conti, con cui stabilisce un prezziario unico e alza i contributi statali del 20 e del 25% rispettivamente per gli edifici residenziali e industriali. Ora si attende un decreto legge che riguardi anche il cratere del 2009 per sbloccare un settore paralizzato in primis dall'incertezza. Se non arriveranno risposte entro dieci giorni, fanno sapere dal Lance, la ricostruzione si fermerà. Da una parte c'è il finanziamento per il centro Italia, che è sempre del governo, dall'altro addirittura dal 2009, che è finanziamento sempre del governo. Come si possono confrontare questi due sistemi? Che uno si confronta col 20% e l'altro non si sa con quale percentuale. Se non si raggiungono i stessi parametri, l'Aquila si fermerà. La ricostruzione del 2009 si fermerà con chiarezza e con determinazione. Se dovessero giungere risposte dal governo, la ricostruzione aquilana, dice Frattale, potrebbe concludersi nel giro di quattro anni. I rincari, intanto, per alcuni materiali i prezzi sono più che raddoppiati, rallentano i lavori, mettendo a rischio anche i finanziamenti del PNRR. Per utilizzare fondi europei, infatti, i lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2026. La richiesta dei costruttori è anche quella di prorogare il super bonus, che ha un ritorno considerevole per l'economia del paese. E il bonus, dicono dal Lance, non c'entra niente con l'aumento dei prezzi, che ha origine anteriore all'introduzione della norma. Ma come? Qui si ferma un pezzo di autostrada e ci sono 150 licenziamenti, figuriamoci, ha riattivato 50.000 maestranze il super bonus. E poi stiamo rendendo sicure l'efficientamento energetico, c'è anche quello che è un miglioramento sismico. E questo è poco che lo Stato domani per le calamità non deve più stanziare miliardi, miliardi, miliardi a ritrovarci a queste condizioni. Torniamo a parlare di sanità perché il reparto di reumatologia pediatrica di Chieti è declassato a unità semplice. Medici e degenti protestano sotto la sede della regione. Con il decreto regionale del 2016 era stato approvato un documento tecnico di riordino ospedaliero della regione Abruzzo con la individuazione di una UOSD, Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Pediatria ad indirizzo reumatologico presso l'ospedale di Chieti. Nel novembre del 2016 la regione Abruzzo aveva comunicato che era stato istituito presso l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti l'unico centro specializzato in reumatologia pediatrica per Abruzzo, Marche e Molise. Con deliberazione successiva 463 del 2021 sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, la UOSD di Pediatria ad indirizzo reumatologico è stata declassata ad unità operativa semplice, solo ambulatoriale. Una brutta notizia per i piccoli pazienti in trattamento che oggi sono oltre 400, il 40% dei quali proveniente da fuori regione, stabilendo così una mobilità attiva importante per la nostra regione, come ha sottolineato questa mattina in conferenza stampa il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che chiede alla regione importanti risposte ai tanti pazienti che arrivano ogni giorno all'ospedale di Chieti. Siamo stati invitati dall'associazione Arara per la reumatologia pediatrica, allora diciamo subito, una grande eccellenza regionale, non solo, anche nazionale perché vengono da tutte le parti d'Italia, era UOSD, unità operativa semplice dipartimentari, inspiegabilmente nel nuovo piano sanitario di riordino alle rete ospedali la regione l'ha depotenziata e declassata UOS, che significa che da UOSD a UOSD si perde il primariato, non ci sarà più un primario, non ci sarà più un centro di costo e la paura e la preoccupazione di queste mamme per i loro bambini, perché si parla di pediatria reumatologica, è di perdere una grande eccellenza. Quindi noi diciamo oggi, io sono stato invitato, sono qui, sono accanto a loro, farò di tutto, diciamo oggi alla regione chiediamo di rivedere questo atto, a mio avviso, irresponsabile e vergognoso, di riclassificare la reumatologia pediatrica in UOSD con un vero primario e un centro di costo, ci auguriamo che ci ascoltino, tutto qui, noi siamo qui per farci ascoltare. Io vengo da fuori regione, sono più di sette anni che grazie a questo reparto riesco ad avere per mia figlia le cure giuste, l'assistenza giusta e tutte le terapie necessarie. Se il reparto verrà meno sarà molto più complicato curare mia figlia e nonostante i miei viaggi della speranza a Chieti probabilmente sarò costretta ad andare ben oltre i chilometri che faccio attualmente. E la cosa è ingiusta perché la salute dei figli è un diritto di tutti e non possiamo chiudere per motivi politici, economici, non si fa economia sulla salute. Per festeggiare il primo maggio la CGL di Chieti si è riunita attorno al suo segretario regionale a Tarantapeligna per una tavola rotonda dedicata ai temi delle aree interne, del lavoro e della programmazione regionale e territoriale. Dall'incontro è partita una proposta dal basso per stimolare un nuovo dibattito regionale all'insegna della condivisione. Seregna Secondi. Un primo maggio a Tarantapeligna organizzato dalla CGL serve un nuovo patto sociale per ripartire. Da qua si ricomincia? Sì, si ricomincia un nuovo patto sociale perché dobbiamo rimettere insieme le forze sociali, dobbiamo rimettere insieme le istituzioni, dobbiamo rimettere insieme il partenariato, il mondo dell'impresa, il mondo sindacale, le associazioni, troppi anni di divisione, di personalismi e anche di eliminazione della discussione dei corpi intermedi hanno portato a un individualismo sfrenato e anche a un campanilismo sfrenato che in questo momento non giova. Occorre condivisione ma servono anche scelte strategiche soprattutto per la programmazione regionale e territoriale. La programmazione ci consentirà di gestire meglio anche le risorse comunitarie e soprattutto quelle PNRR. Non ci possiamo come è successo permettere di non rispondere ai bandi perché non abbiamo la capacità di elaborazione ad esempio sui beni confiscati se non qualche rara eccezione abbiamo lasciato lì un po' di soldini e così abbiamo fatto per gli asili nido. C'è un tema enorme eppure noi dei 500 milioni abbiamo pochissimi progetti. Quindi ci sarebbe bisogno di una cabina di regia che pur c'è ma probabilmente ha qualche difficoltà ma soprattutto fare sintesi di tutti i finanziamenti, avere un'idea di qual è la programmazione, qual è lo sviluppo dell'Abruzzo, individuare strategicamente anche nella provincia di Chiedi, questo lo chiediamo con forza, quali sono oltre all'automotivo, oltre agli altri settori classici, quali sono i settori su cui si bisogna investire e a partire dai fondi sociali europei, l'FSC, i PON e adesso i PNRR metterli a sistema e creare una proposta che a questo punto, noi da oggi questo è stato il dibattito, dal basso proviamo anche a stimolare il dibattito regionale. Anche perché i dati sono incontrovertibili, anche il settore dell'automotiv nel Chietino sta risentendo del conflitto in Ucraina? Assolutamente sì, le materie prime, già c'era una questione legata ai semicontruttori, quindi al reperimento di materie prime sul mercato mondiale, ci saranno ulteriori problemi, qualora appunto dalla crisi in Ucraina, dalla guerra in Ucraina che speriamo finisca più presto, ci saranno ulteriori problemi anche perché le scelte, pur in questo caso, bisognerebbe chiederle a governo centrale, cioè che qual è il futuro dell'automotiv nel mezzogiorno è a partire dall'Abruzzo, come in che modo gli amministratori di Stellandi, se il CEO di Stellandi e Stavare si intende intervenire, non possono dirci qua e là ogni tanto facciamo la Gigafactory a Temori, poi tra qualche mese forse accenniamo qualcosa sugli altri stabilimenti, un piano strategico Stellandi si ce l'ha o no sull'automotiv. E adesso parliamo della vicenda legata al bando per il recupero dei borghi del PNRR che vede Calascio e Lama dei Peligni e sulla vicenda, come protagonista ovviamente, sulla vicenda sono arrivate le parole del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio che dice, ritengo assolutamente legittimo che il Comune di Lama dei Peligni eserciti il suo diritto di fare ricorso laddove ritenga di averne ragione e fondamento. Nello stesso tempo annuncio che la Regione resisterà nel giudizio di merito di fronte al Tar, ritenendo che la Commissione abbia correttamente attribuito i punteggi che hanno decretato Calascio come vincitore e non, come sostiene il Sindaco di Lama, che Calascio si sia aggiudicato nel finanziamento nonostante presentasse diversi vizi. Se ci sono stati vizi aspettiamo che lo decidano i tribunali. È chiaro, ha detto ancora Marsiglio, che la posizione della Regione non ha ambiguità. Se il Tar e a seguire eventualmente il Consiglio di Stato dovesse riconoscere le ragioni di Lama dei Peligni noi procederemo immediatamente a prenderne atto e a far scorrere la graduatoria attribuendo i 20 milioni al nuovo avente diritto. Andiamo a pescare adesso perché consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle sul progetto di ricostruzione del ferro di cavallo nel quartiere Rancitelli. I pentastellati hanno illustrato i motivi delle critiche. Il servizio di Paolo Renzetti. Alessandrine, oggi in conferenza stampa voi manifestate le vostre perplessità sul nuovo progetto di ricostruzione del ferro di cavallo. Perché? Sì, perché sostanzialmente il progetto che ci è stato presentato non risolve nessuno dei problemi presenti oggi. Il ferro di cavallo viene demolito anche perché la sua struttura ha favorito negli anni la costruzione di quelle in clave in cui la malavita, la violenza, lo spaccio, la droga sono state facilitate proprio perché lontane dagli sguardi del resto della città. E si ripropone un progetto che sostanzialmente ha quasi la stessa forma cioè un'apertura, un piccolo spazio di 20 metri che si apre su Via Tavo sarebbe la grande soluzione che gli architetti nominati dall'Ater o anche i consulenti che vedremo sono stati nominati all'interno di questo gruppo di progettazione prevedono per la nostra città. Il progetto deve essere innanzitutto valutato insieme alla cittadinanza erano stati promessi percorsi di partecipazione che sono stati completamente negati il progetto ci avviene calato dall'alto dall'Ater vorremmo sapere il ruolo che ha avuto in questa vicenda anche l'architetto Michele Lepore che è presente come delegato del comitato scientifico che non si sa da chi è stato nominato per il controllo e il monitoraggio di questo progetto ma sappiamo benissimo essere consulente all'interno del comune e insegnante e professore all'interno dell'università quindi un architetto uno e trino che sostanzialmente tira le fila di tutti i progetti all'interno della città quindi il nostro è un appello accorato e non siamo i soli abbiamo letto ieri Don Massimiliano sappiamo anche che tutta la comunità delle associazioni di quartiere ha il nostro stesso dubbio e chiede con fermezza la modifica di questo progetto perché è necessario risolvere il problema l'abbattimento lo abbiamo sempre voluto siamo stati i primi a parlarne durante la campagna elettorale delle scorse elezioni amministrative quindi lo sosteniamo con forza ma va verificato cosa ricostruire e se ricostruire in quel luogo vista la presenza già di numerosi elementi diciamo di case popolari già in costruzione e che quindi prevederanno una presenza mazziccia di persone in quel quartiere quindi siamo a disposizione vorremmo chiediamo un incontro con l'Ater per verificare la possibilità di modificare questo progetto da questa mattina a Giulianovo un'equip medica dell'asle di Teramo ha iniziato a visitare i 103 bambini e adolescenti ucraini fuggiti dalla guerra e giunti nel comune Rivereasco ospitati in un hotel ognuno di loro riceverà una tessera sanitaria provvisoria i pediatri verificheranno eventuali problemi di salute il servizio d'Italia Bonnici Castelli dopo un lunghissimo e travagliato viaggio sono arrivati a notte inoltrata a Giulianova 103 minorenni dall'Ucraina fuggiti dalla guerra questi bambini e adolescenti erano a bordo di tre pullman con 10 accompagnatrici prima di giungere nel comune Rivereasco avevano fatto una tappa di qualche giorno in un centro profughi in Polonia il gruppo di giovani ucraini dai 3 ai 17 anni di età è stato ospitato in un hotel di Giulianova dove il personale dell'asla di Teramo aveva già allestito un ambulatorio e un locale ad hoc per vaccinazioni e tamponi ad attendere i bambini alcuni dei quali provenienti da un orfanotrofio c'era il personale della protezione civile regionale e comunale della Croce Rossa e una squadra di due medici tre infermieri, un assistente sanitario e un farmacista a dirigere le operazioni i dottori Paolo Calafiore e Dimitri Caliacudas presente anche il vice sindaco di Giulianova Lidia Albani all'arrivo sono stati immediatamente eseguiti i tamponi antigenici e tutti i passeggeri sono risultati negativi da questa mattina un'equip della pediatria del Mazzini sta visitando i 103 giovani profughi per accertare le loro condizioni cliniche dalle prime informazioni sarebbero tutti in buono stato di salute anche se provati dalle esperienze degli ultimi giorni inoltre l'asla sta effettuando la registrazione per il rilascio della tessera sanitaria provvisoria ad ognuno di loro e subito avvierà l'iter per le vaccinazioni obbligatorie solidarietà e disponibilità è arrivata anche dai pediatri di libera scelta che si sono resi disponibili nella struttura ricettiva per un'ora al giorno a rotazione al fine di fare fronte ad ogni necessità sanitaria dei piccoli soddisfatto il direttore generale dell'asla di Teramo Maurizio Di Giosia che ringrazia i pediatri di libera scelta e tutto il personale che si è messo a disposizione per organizzare la macchina dell'accoglienza in collaborazione con il comune di Giulianova ci prenderemo cura dei giovani profughi appena arrivati ha dichiarato commosso il manager Di Giosia non solo perché rientra nei nostri compiti istituzionali ma perché riteniamo doveroso accogliere con calore un popolo martoriato dalla guerra Torna dal 6 all'8 maggio nel cuore di Pescara con la sua quinta edizione Ecomob Expo City il primo grande evento del centro sud Italia dedicato alla green economy e incentrato sui temi della mobilità sostenibile del turismo attivo e dell'ecologia ambientale Pescara sparanca le porte per accogliere al meglio la quinta edizione di Ecomob Expo City il primo grande evento del centro sud Italia dedicato alla green economy e incentrato sui temi della mobilità sostenibile del turismo attivo e dell'ecologia ambientale da venerdì 6 a domenica 8 maggio la città d'Annunziana sarà un punto di riferimento su scala nazionale due i punti espositivi in Piazza della Rinascita e allo Stadio del Mare l'evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala giunta di Palazzo di Città la novità più importante è la location il cambio di location quindi non più al porto turistico ma nel cuore della città di Pescara nel cuore vibrante dell'attività commerciale ed economica della città i temi sono gli stessi quindi la mobilità sostenibile il turismo attivo e l'ecologia ambientale quindi tratteremo entrambi tutti i temi presentando tutte le novità presenti adesso diciamo che abbastanza eterogene verranno un po' da tutta Italia toccando diverse regioni e gli stand sono circa 45 Pescara è l'ottava città in Italia secondo l'osservatorio del Ministero delle Infrastrutture per mobility sharing e quindi per utilizzo di tutti i dispositivi che noi abbiamo messo a disposizione della nostra comunità per la mobilità sostenibile un risultato molto losinghiero per l'amministrazione ma un risultato anche che deve comunque creare grande compiacimento anche da parte dei nostri cittadini che evidentemente sono i fruitori di biciclette di monopattini, di scooter sono in arrivo anche le biciclette a pedalata assistita per la prima volta a noleggio e quindi Ecomob diventa un'occasione un'opportunità per avere ancora una volta come nelle passate edizioni un nostro stand una nostra dimostrazione dei progetti in corso delle pianificazioni che stiamo quanto riguarda il Biciplan il piano generale del traffico urbano tutto inquadrato all'interno del sistema del piano urbano della mobilità sostenibile e quindi si ricrea questa collaborazione con Igi a Lorenzo e con Ecomob che quest'anno oltretutto ha un progetto ancora più ambizioso rispetto agli altri anni perché sarà presente nel cuore della città E ieri, primo maggio la sala Domenico Trinozzi della provincia di Pescara ha ospitato la cerimonia del premio Il Lavoratore Ideale giunto alla sua 21esima edizione 60 in tutto i lavoratori che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento In questo primo maggio del tutto particolare lo chiediamo a Giampiero Fattore della Will di Pescara cosa la preoccupa maggiormente? Diciamo che oggi è un giorno di festa ma è una festa praticamente un po' triste perché gli avvenimenti che ci hanno sconvolto sia negli ultimi due anni che ultimamente con la guerra in Ucraina non ci fanno sentire in un giorno effettivamente di festa la festa del lavoro il lavoro che non c'è il lavoro precario il lavoro pericoloso perché tieni conto che l'Abruzzo è una delle regioni che detiene la maglia nera per quanto riguarda le morti bianche al 31 dicembre 2021 38 vittime di cui 9 a Pescara 11 a Pescara scusami 10 all'Aquila 9 a Chieti 8 a Teramo e quindi praticamente abbiamo tutta una situazione particolare che non ci consente di dire che è un giorno di festa in controtendenza a quello che dice poi l'articolo 1 della nostra bella Costituzione che dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro ma un lavoro che in questo momento latita negli ultimi anni perdiamo quasi mille posti di lavoro ogni anno perché secondo lei? ma li perdiamo perché siamo in una situazione veramente disastrosa da un punto di vista sia economico che sociale se tu pensi che 140 mila giovani lasciano il sud per cercare un'occupazione per cercare un'occasione di lavoro al nord o all'estero è tutto dire pensa che abbiamo circa 3 milioni di NET che è l'acronimo di un termine inglese che vuol dire Not Educational Employment or Trading quindi NET sono il gruppo di giovani tra i 15 e i 29 anni che ne lavorano, ne studiano e ne seguono percorsi di formazione professionale quindi abbiamo 3 milioni di disperati e più abbiamo oltre 7 milioni di persone che attendono il rinnovo dei contratti di lavoro Per la ventunesima edizione della festa del lavoratore ideale qui in provincia Pescara che tipo di lavoratori avete selezionato? Allora diciamo che abbiamo selezionato un gruppo di lavori variegati quello che ci fa immensamente piacere è che abbiamo oltre ai lavoratori delle poste ai lavoratori dell'edilizia abbiamo in particolare un lavoratore dell'Ucraina e quindi ci fa particolarmente piacere premiare questo lavoratore che è ovvio che è da circa 20 anni in Italia ma che comunque ha sempre i legami col suo paese è una vigile del fuoco pensa una ragazza ne sono soltanto due in Abruzzo donne che fanno questo mestiere così pericoloso così importante che dà una dignità e un'importanza al ruolo femminile in questa società Sport adesso calcio di Serie C dopo il sofferto pareggio dell'Adriatico Cornacchia il Pescara guarda già al prossimo turno è il secondo di playoff contro il Gubbio mercoledì sera alle ore 20.30 i biancazzurri di Luciano Zauri se la vedranno contro la squadra di Torrente noi però facciamo un passo indietro e ci ascoltiamo i due tecnici Zauri da una parte di Natale e dall'altra dopo il 2-2 di ieri pomeriggio la prima parte non l'ho vista ma da quando gioco a calcio non ho mai visto una partita dove non si soffre abbiamo sofferto abbiamo creato abbiamo subito abbiamo ricreato ho visto una partita di calcio dove si può fare sempre meglio sono d'accordo però io mi prendo di buono quello che è detto alla fine c'è il passaggio del turno che è la cosa più importante da quando sono arrivato l'ho detto ai ragazzi cercherò il vestito migliore per ogni partita anche a costo di essere un po' bruttini non fa niente c'è l'avversario che gioca bene a calcio l'abbiamo visto quindi loro hanno fatto la loro partita noi abbiamo fatto la nostra perché dopo a fine ogni partita si andiamo a parlare sempre delle stesse cose ma il Pescara ha creato il Pescara non ha subito e basta il Pescara ha creato ha subito anche le situazioni sì sono d'accordo con te però ogni volta sembra che abbiamo vincito tutte le partite 10-0 non succederà mai cioè è impossibile te lo dico già adesso e quindi abbiamo sofferto ti ripeto sì però non ho visto una squadra morta e l'altra viva due squadre di stasso in giocata chiaramente la loro partita deve essere diversa dalla nostra perché comunque noi potevamo anche pareggiarla come si è visto quindi probabilmente loro hanno dato una cosina in più dal punto di vista di atteggiamento cosa che non deve succedere perché insomma stiamo giocando una bella fetta di campionato insomma sì però la cosa che ho detto ai ragazzi pure non è un dettaglio purtroppo non è un dettaglio passare il turno e noi l'obiettivo nostro è passare i turni chiaro che vorrei giocare bene fare più due cose all'avversario però ripeto conta no conta perché alla fine spesso chi gioca meglio vince nel calcio è ovvio però in alcune situazioni tipo oggi secondo me la cosa importante è il risultato c'è cremo sono d'accordo sulla prestazione che non è piaciuta magari in generale però le cose buone sono state io me le prendo tutte mi dispiace perché la squadra dimostrata deve essere una grande squadra contro una grande squadra come Pescara che è forte davvero perché c'è tanti giocatori forti però noi alla fine meritiamo qualcosa in più noi mi dispiace solo per questo no dispiace perché abbiamo trovato una squadra fortissima come Pescara però noi siamo due qua a fare la nostra partita credo l'abbiamo dimostrata in campionata anche oggi secondo me meritiamo a noi come meritavano loro però il calcio Mattiziano non stava bene mi ha avuto rischiare perché è un giocatore molto importante e mi ha fatto giocare un altro abbiamo tanti giocatori fuori le ultime due partite abbiamo avuto 4-5 giocatori titolari fuori non voglio che dire che chi ha giocato secondo me chi ha giocato ha fatto anche meglio però quando ti mancano i giocatori importanti fai più fatica e credo che la squadra è un po' accusata di coppia però oggi ho visto la carese che mi piace a me a me mi piace questo stadio mi piacerebbe ancora di giocare dentro però all'estero alleno è un grandissimo stadio faccio il complimento del Presidente che è una persona seria mi dispiace l'ho detto perché noi siamo qui per giocarci fino alla fine il sogno è finito oggi però va bene sì io è il primo anno che alleno io l'anno scorso sono arrivato a tre partite alla fine ho cercato di salvare la gara resa sono riuscito quest'anno siamo arrivati dei primi dieci può dire che con tanti giorni perché noi tra 15-20 partite giocavo con 70 giocatori che veniva nella seconda primavera qualcuno che è stato preso all'ultimo credo che alla fine il lavoro si è visto però faccio i complimenti alla società faccio i complimenti ai tifosi che hanno reso perché poi sono sempre vicini anche in momenti difficili e siamo stati bravi tutti volle in presa la controporto di Enrico Rocchi e tanti ospiti per analizzare la partita di ieri pomeriggio tra Pescara e Carrarese e guardare già al secondo turno playoff contro il Gugl il TG6 invece torna alle ore 23 con l'edizione della notte grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata Grazie a tutti